buonasera e bentornati a bones per queste puntate finali di questa stagione dedicate non solo alla cultura e allo spettacolo ma anche alle peculiarità del nostro paese ed oltre oggi racconteremo un personaggio più aleatorio più astratto ma anche più concreto di quelli che abbiamo intervistato nelle altre puntate perché è un territorio parliamo del monferrato una porzione del nostro bellissimo paese che dai monti dell'appennino siamo nel nord italia scende verso torino stretto tra le langhe e i fiumi e ne parleremo cercando di capirne quanti più segreti e cercano di appassionarci con quelli che sono i protagonisti di una valorizzazione del territorio appunto il consorzio gran monferrato io vorrei subito avere in collegamento la dottoressa giulia guerrera del consorzio ciao giulia buonasera buonasera a tutti grazie per l'invito siamo molto fieri di essere qui da voi buonasera a tutti grazie a te per esserci allora dici subito a parte piacere di ritrovarti bene che chi siete che cos'è il monferrato è un posto veramente un personaggio di quelli che avrei voluto nel scrivere io se si potesse perché uno di quei personaggi con cui il è facile dialogare molti lo hanno fatto un posto quasi fiabesco con una storia millenaria e che è stata da sfondo per tante avventure diciamo che aprire appunto una premessa nel senso che sì storicamente il monferrato ha una storia veramente importante a livello di confini diciamo che non sono sempre stati ben definiti ecco ma noi ci stiamo concentrando principalmente sul presente su quello che è il monferrato ad oggi e quello che può essere poi in futuro quindi abbiamo una visione più proiettata appunto verso quello che sarà il monferrato sicuramente siamo già arrivati ad un buon punto perché ormai è da due anni che stiamo operando per valorizzare questo territorio e il monferrato lo stiamo delineando inizialmente su su tre principali comuni poli che ne definiamo come tali del del consorzio del nostro progetto che sono casale monferrato principale insieme agli altri due appunto tutti e tre i comuni principali acquiterme e ovada per poi allargarci in realtà anche sulle zone diciamo più del tortonese dei quali tortonesi di gavi ma questi principalmente sono diciamo dei punti di riferimento che noi abbiamo inserito all'interno del nostro progetto per avere proprio concretamente dei dei comuni dei centri no del del monferrato ma in realtà il nostro payoff sta proprio ad indicare terre di benessere senza confini quindi il monferrato che noi andiamo ad indicare è proprio gran monferrato nel senso di non avere proprio limiti di territorio e quindi ovviamente abbiamo tutti i comuni anche diciamo più di dimensioni più piccoli piuttosto che meno diciamo valorizzati infatti che quello che stiamo noi cercando di andare a fare di valorizzare proprio l'intero territorio e quindi ritroviamo comuni che per esempio cellamonte è stato appunto uno dei borghi più belli d'italia quindi è stato proprio riconosciuto dall'unesco come tutto il monferrato appunto cellamonte è un borgo piccolo ma ha un valore veramente elevato come anche tanti altri comuni da soltanto la strada dei vini che parte diciamo da tutto quello che è il tracciato del nostro del nostro percorso quindi del nostro territorio tocca 102 comuni quindi per farvi capire la vastità di diciamo di questo di questo progetto e il fatto che vengano racchiusi in un territorio alla fine ovviamente prendendo in considerazione il piemonte il bar d'italia un territorio che è comunque piccolo però è molto vario e molto esteso nel suo essere così esattamente voi siete un territorio particolare dicevo con una storia poderosa che ha un interesse per la storia presente anche non siete consegnati unicamente al passato siete vivissimi e per un territorio peculiare perché ad esempio non ha una sua provincia di riferimento unica per quanto siete un po insomma come siete a cavallo frazionati in vari territori principalmente chiaramente forse quella di assi l'assigiano e quella di alessandria più quella sì esattamente tra assi alessandria ma c'è anche tutta la parte giù verso verso vada tu ricordavi l'oltre gioco e poi ancora si scavalla da altre parti e voi queste terre che non hanno più un'unità da un po di tempo le state facendo rivivere con un unico respiro attraverso questo consorzio gran monferrato ecco che cosa qual è lo scopo e cosa ha realizzato fino adesso quali sono i prossimi obiettivi che voi avete allora il consorzio principalmente è nato iniziando a novembre più o meno del 2020 quindi abbiamo una vita breve ma molto intensa fino ad ora vivissima come come hai ben detto tu in questo momento noi stiamo cercando il più possibile di creare un'identità del territorio un'identità che sia molto forte riconosciuta sia a livello interno quindi stiamo lavorando tantissimo sulla comunicazione a livello interno sul territorio sia a livello esterno per portare il monferrato proprio a livello di brand ma non solo a livello di offerta turistica all'esterno e quindi su territorio nazionale ovviamente ma anche internazionale stiamo cercando di partecipare il più possibile ad eventi del settore ma non solo sia locali sia internazionali infatti per fare un esempio non soltanto per diciamo amplificare la comunicazione a livello interno con eventi quali fiere feste qui sul territorio ma anche eventi per esempio l'istituto polvocuso di lione in cui noi abbiamo portato i nostri prodotti locali per una masterclass diretta direttamente da uno dei nostri chef del del consorzio e quindi abbiamo portato il tartufo bianco del monferrato firmando poi anche un protocollo di intesa per diventare principali fornitori di tartufo bianco nel monferrato all'istituto e devo dire uno dei anzi il migliore al mondo nel settore appunto della cucina culinario l'istituto polvocus è molto riconosciuto e quindi questi eventi ci stanno ci stanno dando la possibilità proprio di diffondere il brand che è il nostro obiettivo e non soltanto anche di creare un'identità a livello interno perché perché diciamo che purtroppo la storia ha portato dei campanismi molto forti anche tra comuni magari sono distanti pochi pochi chilometri e quindi questo diciamo ci sta vincolando ma lo stiamo completamente sradicando e stiamo riuscendo in questa in questa missione che sta diventando diciamo il nostro punto di riferimento per arrivare a rompere tutte le barriere ecco infatti anche perché anche perché il i campanili sono fonte di rivalità ma sono anche architettonicamente bellissimi voi ne avete di splendidi lo accenneremo e io a questo punto però chiederei anche un parere ulteriore tu sei collegata da casale ma noi abbiamo anche e che quella che è la capitale poi storica fondamentalmente del mondo ferrato ma abbiamo anche il dottor marco prosperi che è collegato con noi che si occupa buonasera di comunicazione e marketing buonasera marco ben arrivato ben trovato allora se ci può dare qualche informazione in più su quella che è la l'attività vostra a consortire nel campo prettamente della comunicazione del punto della promozione che state realizzando a suffragio delle parole di giulia grazie grazie intanto di avermi di averci invitato io sono se diciamo responsabile anche nella comunicazione ma in generale direttore del consorzio quindi un po di tutte le operation faccio un po l'attività di coordinamento il in questo momento ovviamente marketing e la comunicazione è la leva principale perché il consorzio nasce con l'obiettivo di mettere insieme le esigenze di tutti i operatori turistici locali di mettere a fattor comune le loro leve commerciali loro le loro esperienze turistiche loro pacchetti e di comunicare un unico brand che gran monferrato e di creare dargli un'identità particolare di lasciarlo sostanzialmente come unico punto di riferimento per tutti italiani e stranieri che volessero comunque qualche modo venire sul nostro territorio gran monferrato deve diventare il portale d'accesso portare d'accesso non solo web è il portale d'accesso a un tipo di turismo nuovo un tipo di turismo un uomo forse nuovo nome un tipo di turismo che sta tornando un turismo lento un turismo soprattutto post pandemia un turismo fatto di silenzi fatto di natura ha fatto di salvaguardia per l'ambiente grandi pedalate camminate ma anche degustazioni perché nostro territorio chiaramente particolarmente conosciuto e estremamente performante passatemi termini sotto piano proprio neogastronomico giulia prima citava la nostra partecipazione alla scuola internazionale polbocuse di leone che la più importante scuola per chef dal al mondo in cui noi siamo andati abbiamo come dire detto la nostra con grandissimo successo e quindi oggi il gran monferrato a questo grande obiettivo comunicare fuori dalle dai confini del nostro territorio che già detta così rispetto a tutto quello che è stato detto è molto difficile molto difficili da delineare è gran monferrato apposta perché andremo proprio a raccogliere sempre più i territori diciamo limitrofi che abbiano un'analogia territoriale collinare per tipologia di turismo e per tipologia e per diciamo contiguità territoriale e quindi il proprio il concetto è quello di comunicare passi aste strategici tutta la nostra value proposition verso l'esterno quindi come dicevo prima il tipo di turismo che si può effettivamente come dire fruire il monferrato ma anche parte non gastronomica ma anche tutta la parte culturale architettonica città di prima i campi campanili campanili ce ne sono tanti ce ne sono sono belli casale monferrato è una è una città che ha un numero di chiese impressionante ma non solo a la sinagoga più antica d'italia o forse la la seconda più per antichità d'italia che viene viene venuta a visitare da tantissimi turisti religiosi diciamo e viene veramente una perla ha ancora un suo ghetto all'interno del quale c'è conservata la sinagoga ha quindi anche dal punto di vista culturale religioso c'è tanto e il monferrato al territorio in italia credo per densità di castelli più in qualche modo più ricco no quindi c'è tanto noi dobbiamo prendere questi valori portarli fuori da qua portarli fuori prima in italia e poi fuori dall'italia verso per esempio tipicamente un turismo mite l'europeo che qua è perfettamente come dire aderente trova esattisportabile sia poi eventualmente anche extraeuropeo e questo è il nostro lavoro di comunicazione usiamo i canali digitali e ovviamente perché oggi quelli sono fondamentali facciamo un'attività fortissima su quello che è il mondo del social network ma soprattutto su quello che è il posizionamento di alcune parole chiave sul motore di ricerca perché noi vogliamo che quando uno cerca la parola benessere c'è nel senso non di spa ma nel senso di voglio stare bene scelga trovi e scelga l'onferrato certamente io poi ma infatti io che il potono su questo voglio chiederle ancora se c'è quali sono i pregi e quali le resistenze che trovate nei confronti delle realtà con cui entrate in contatto e cercate di convogliare di invogliare anzi e quali e come viene percepita poi anche la la tecnologia le nuove tecnologie quelle digitali che le diceva e metterle in binomio metterle in in ticket addirittura con l'aspetto culturale e naturalistico allora gli strumenti digitali chiunque di noi ovviamente è un fruitore anche di vacanza e di come dire di di turismo meravigliosi perché ti permettono di portarti il sogno in casa no ti portano le fotografie ti portano immagini però non ti portano i sapori non ti portano gli odori non ti portano la percezione la quella cosa che hai addosso sulla pelle quando sta in un posto non sono utili ma non sono sufficienti assolutamente ma è già il fatto che noi stiamo parlando in questo caso ecco che il fatto che la tecnologia ci viene messa in comunicazione è importante che si possa già pensare di viaggiare così ecco magari è un pregustare il viaggio io torno io richiedo e chiedo di di riavere anche giulia perché quello che diceva il dottor prosperi mi faceva venire in mente una cosa che penso che ci siamo detti anche non c'è forse un posto d'italia dove si se si casca si casca male a livello di bellezza di di gusto di bellezza creata e di bellezza già esistente a livello naturale il monferrato credo abbia forse una delle più alte concentrazioni d'italia di di prodotti buoni da da vedere da gustare ed è quasi un'esperienza noi di questo per costruire la puntata l'abbiamo detto il monferrato si offre tramite il vostro consorzio come esperienza unica dalla natura l'arte la cultura la del vivere bene quindi del mangiare del bere bene dico dico correttamente giulia assolutamente sì e questa è la nostra la nostra particolarità alla fine che quella del ven del cercare di trasmettere un territorio che non sia un prodotto all'interno del territorio che non sia una particolare tipo di esperienza o di attività da da fare qui monferrato ma che sia proprio il territorio c'è il gran monferrato che offre se stesso no e quindi in questo messaggio qua ritroviamo al suo interno tantissime esperienze molto diverse tra di loro e c'è una varietà che viene offerta a livello turistico che difficilmente si trova in queste destine in questo tipo di destinazioni turistiche perché oltre noi potremmo associare direttamente al vino il monferrato perché viene diciamo spontanea immediata come associazione vedendo anche soltanto il paesaggio e come ha detto giustamente il è giusto turismo che sia più lento più di respiro e che questo che noi tornare ad assaporare la vita pratica noi possiamo vedere anche qualche immagine del di repertorio ecco intanto dove è localizzato come dicevo è un territorio che si sovrappone a varie province che ha avuto un'unità in passato un marchesato poi un ducato e che di questa storia porta le tracce io ricordo proprio lì a casale il bellissimo duomo di sante uvasio dico bene sì assolutamente il duomo è un luogo particolarissimo sembra 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 vero si stiamo vedendo e sembra un questo blu che abbaglia e poi non solo ci sono ci sono i castelli tantissimi della storia della storia monferrina che si è accumulata nel corso del tempo e poi insomma le varie altre prelibatezze e no gastronomiche appunto che fanno anche convivialità quindi quindi da questo punto di vista davvero un posto che vale la pena visitare in cui spero di tornare presto e vorrei chiedervi poi non so come non so chi mi risponde prima ma che cosa qual è il messaggio che intendete dare con ecco adesso vi vedo entrambi che cosa qual è la vostra speranza ecco questo il vostro risultato già adesso e qual è la sfida che volete andare a cogliere nei prossimi mesi e in questo tempo che sta avvenendo beh io lascerei lascerei la parola marco perché giustamente è lui assolutamente più preparato di me da questo punto di vista ed è bravissimo con appunto le parole nel trasmettere quello che è il nostro il nostro consorzio la nostra visione per il futuro io direi semplicemente che personalmente poi è una passione che ho anche no relativa a questo progetto quindi lo porto avanti perché mi coinvolge anche da un punto di vista diciamo personale perché casa il monferrato per me ovviamente quello che che è per me vorrei trasmetterlo anche a tutti quelli che vengono a visitare il monferrato e a quelli che anche soltanto loro assaggiano un po no sui nostri carelli social quindi assolutamente dovete seguirci come gran monferrato official noi abbiamo tutta la nostra pagina in cui cerchiamo di trasmettere un po' quella che è la nostra il nostro territorio il nostro progetto ma ovviamente per per attestarlo direttamente con mano dovete venire a trovarci qui in monferrato quindi con questo lascio la parola al mio collega marco allora io sono pratico no e quindi mi riallaccio un po quello che abbiamo detto prima e userei proprio quelli che sono stati per noi gli strumenti di comunicazione cui abbiamo fondato la nostra sella in proposition e come in comunicazione si usa una mission e si usa una vision no la mission è proprio la missione che abbiamo la nostra missione è quella di rendere gran monferrato luogo di accoglienza e di ospitalità riconosciuto come generatore di benessere della persona e esperienze che migliorano la qualità della vita dal punto di vista fisico e mentale quindi è tutto quello che è racchiuso nel nostro payoff no terra di benessere senza confini quindi questa è la nostra missione veramente è quello su cui stiamo lavorando la nostra visione invece che è un pochino più comunicazione un approccio filosofico no una cosa quasi futuristica e non sempre raggiungibile ma sicuramente molto efficace è che gran monferro che gamma un ferrato contribuisca a rendere il mondo un posto migliore e più accogliente grazie alle sue tese alle sue terre di benessere che non hanno confini quindi che diventi anche un po un esempio no su un modo di vivere su una qualità della vita e di fare e di fare turismo e poi c'è l'obiettivo l'obiettivo quello che abbiamo e per cui noi siamo investiti dai nostri soci del di tutta la loro fiducia che è quello di riempire il monferrato fare in coming e riempirlo di riempire i posti letto riempire i posti al ristorante riempire le cantine di persone che vengano godano del territorio e assaggino i prodotti riportino via facendo anche poi come dire facendo dei nostri prodotti facendo gli ambasciatori poi su sui territori che loro dove loro tornano nelle loro case io dico riempirli ma i posti letto poi sono tanti ma non sono neanche così tantissimi proprio perché è un territorio non troppo antropizzato no nel senso che non è troppo antropizzato no quindi per fortuna che il suo bello la tanta natura ci sono delle ci sono delle cose meravigliose ci sono c'è un cammino un nostro socio che il grande cammino del monferrato lo voglio citare che a 30 tappe da 20 chilometri e passa di cammino quindi immaginatevi che numero di chilometri che abbiamo di cammino intorno su e giù per le colline in mezzo alle vigne eccetera ci sono delle cose da fare ci sono delle esperienze enogastronomiche pensa che la strada dei vini e dei sapori che citava prima giulia una strada tracciata che passa più su più di 100 comuni 600 chilometri la strada più lunga d'italia tocca 23 vignette vitigni diversi quindi c'è una biodiversità anche dal punto di vista proprio della natura del del vino che è impressionante quindi è un posto dove veramente venire e come dire e fruire e provare che cosa vuol dire il benessere nel senso dello stare bene se noi abbiamo centrato se noi centreremo quell'obiettivo per cui il turista nel futuro il turista dirà voglio voglio stare bene dove vado devo correre in monferrato ecco questo sarà vuol dire che abbiamo centrato tutti gli obiettivi di marketing di comunicazione e anche di visione strategica perfetto io penso che ci stiate riuscendo entrambe le cose sia questo obiettivo che quello che diceva giulia di sentirsi a casa cosa che capita in rari posti del mondo quanto si allontani dalla propria dimora e poi giulia tu la strada dei vini l'hai fatta tutta proprio tutti tutti i chilometri infatti tutti a piedi sì certo quindi no io credo davvero che ci stiate riuscendo io mi sono sentito davvero un po di nuovo in monferrato con grande piacere oggi con voi spero di poter cogliere quello che non si può purtroppo ecco la tecnologia ancora difetta in questo portare portare tramite collegamenti i sapori gusti e anche magari insomma le esperienze concrete di questa bellezza che si può cogliere uno dei posti davvero in italia in cui la bellezza è più concentrata e io vi ringrazio per essere stati con noi magari ci risentiremo in creeremo delle altre occasioni di incontro e di dialogo vedere il punto della situazione complimenti anche per quest'idea di aver di supplire un po a un'assenza istituzionale se vogliamo perché ripeto il monferrato purtroppo non ha più un'unità propria amministrativa è un po disperso e voi lo state facendo anche come avete detto prendendo territori che non sono propriamente parte di quella storia ma che sono hanno analogia hanno affinità e questo è una grande un grande messaggio di appunto di poter stare bene insieme se si condivide un cammino e una visione io vi ringrazio vi saluto e saluto anche i nostri ospiti di questa puntata dando appuntamento alla prossima stagione grazie buona serata a tutti grazie grazie a tutti buona serata grazie a tutti